solennità importantissima dell'epifania e noi dobbiamo contemplare l'avventura dei magi l'avventura dei magi è il sentiero dell'epifania ossia della rivelazione di dio è una rivelazione fatta degli estranei a gente lontana i magi vengono dall'oriente vengono da un posto diverso vengono da un luogo che non è collegato alle promesse di israele è la storia di qualcuno che riuscirà a trovare il signore gesù è qualcuno che trova il bersaglio il bersaglio dell'esistenza il re dei re è il percorso di chi debba arrivare a gesù cristo allora da dove parte questo percorso si parte da una stella sorge dice il testo una cosa nel cielo i magi sono per definizione astrologi sapienti cioè gente che per mestiere guardava il cosmo e sapeva tante cose ma questa non la conoscono questa non l'hanno mai vista è comparsa una cosa diversa bella attraente sorprendente e qui è il primo punto di questo viaggio bisogna decidere su una intuizione che sorge nel cuore che la bellezza non sia capitata a caso dalle parti di questi signori ecco noi sappiamo che bisogna seguire la bellezza la bellezza un interrogativo nella nostra vita quanto importante la bellezza quella vera quella che si impone come sconosciuta come superiore come nobile come celeste qualcosa che è del cielo qualcosa che ci fa guardare in alto e allora i magi non se la lasciano scappare sono furbi la inseguono quante volte gli uomini per non perdere la presa di ciò che è valido hanno trovato il signore essendo attaccati a qualcosa di importante di bello alla fine sono arrivati a dio tante volte succede che le persone quando sono attaccate e non si lasciano scappare ciò che veramente conta arrivano la verità arrivano tante cose belle e meravigliose tanti uomini sono arrivati a cose importanti che hanno aiutato tutti hanno illuminato tutti perché non hanno lasciato la presa della bellezza la presa di ciò che veramente valeva e cosa vuol dire seguire una stella che si muove i fenomeni cosmici si vedono bene in certi luoghi e male in altri come le eglissi allora immagini camminano così questo un po spiega il loro cammino regalano i loro passi per vedere meglio questa cosa come succede che se uno vuole vedere un eglissi inizia a muoversi per vederla sempre meglio e scopre che in una certa direzione si vede sempre di più è così loro camminano camminano e questo riporta riporta dove li deve portare cercano di vedere sempre meglio questa bellezza è interessantissimo pensare che camminano secondo il cielo camminano guardando il cielo se ci chiediamo se c'è un'altra forma di camminare beh troveremo genesi 3 che dice che c'è uno che camminano sulla pancia camminano sulla terra il serpente e tanti uomini camminano sul ventre camminano sulle cose del ventre cioè sono schiavi delle pulsioni delle voglie delle cose che li porteranno a mangiare polvere mangiare questa terra e non vivere secondo il cielo è certo in questa epifania avviene questa manifestazione avviene a chi solleva il nasino e guarda un po il cielo e guarda le cose nobili e non resta raso terra appiccicato la polvere ecco questo sentiero il sentiero del cielo li porta a gerusalemme e gerusalemme è la città delle promesse la città sante la città di davide infatti la stella non basta la bellezza dobbiamo dirlo non basta ciò che l'uomo può vedere per quanto bello e luminoso sia è solo un inizio infatti abbiamo detto che gli uomini che seguono la bellezza devono arrivare a qualcos'altro quel che trovano qui i magi è il popolo di dio in esso trovano un'altra luce troveranno le scritture e in essa appunto le profezie è interessante considerare che noi non siamo i primi a seguire la via del bene del bello e di ciò che è valido c'è qualcun altro che ha camminato prima di noi qualcun altro che è andato a bersaglio che è andato a buon fine ecco il centro dell'esistenza è stato trovato da tanti uomini e tante donne prima di noi ci sono le profezie ci sono le scritture c'è l'esperienza di dio dio ha parlato a tanti prima di noi e ha lasciato delle indicazioni queste immagini trovano che c'è una storia che li precede è la storia del popolo ebraico e chiamati per mezzo di quel che potevano capire immagino trovano la storia di un dio ha condotto un popolo e attingono al tesoro di questa storia e i prossimi passi sono secondo le promesse secondo le opere fatte con gli uomini e le donne della memoria di israele obbediscono a queste scritture in quel momento c'è una connessione la stella e le scritture collimano indicano lo stesso posto e questo posto è betlemme e lì trovano quel che dovevano trovare le scritture e il cuore la bellezza che ha svegliato il cuore sono sintonizzate sul bersaglio e il bersaglio è una casa dove c'è una donna con il suo bimbo dice il testo la vita che sgorga ma è una vita peculiare che è segnata dalla presenza della stella e dalla indicazione delle scritture e qui è riconosciuta anche da una gioia grande da parte dei magi è una vita di un bimbo è la vita nuova è la vita fresca è la vita della novità e questo bimbo va adorato va baciato ed è un regalo del cielo e a lui va dato tutto quel che uno ha da dare perché se lo merita perché è bello che il viaggio dei magi termina in un dono tanto è quel che hanno ricevuto che gli sembra poco quel che hanno da dare e danno le cose più preziose che hanno in questi doni più che vedere ciò che è da dare a questo bimbo perché la mirra non è nell'immediata necessità di un bimbo e neanche l'incenso c'è quel che loro hanno da dare il loro oro cioè la loro ricchezza il loro incenso ovvero sia il loro onore il profumo della loro gloria regalarla a cristo e la loro mirra che è lunguento che serve per i defunti che l'organizzazione della propria morte e cioè il fatto di saper donare la propria morte al signore tanto è quel che ci ha dato che gli possiamo donare tutto fino agli ultimi nostri progetti tutto ciò che abbiamo pianificato le nostre tecniche per rendere profumate le nostre morti per cascare in piedi pure nei casi peggiori ecco possessi ruoli e strategie sono cose piccole se uno trova il re dei re gli si possono dare tranquillamente lui ha molto di più da dare questo è il cammino dei magi questo è il nostro cammino seguire la bellezza le scritture e obbedire a queste cose per arrivare al dono che lui è per scoprire che gli si può dare tutto perché tanto riceviamo molto di più